Radio Catrame 19, la tua web radio inusuale. Io so una cosa che nessuno sa. Qui quo qua hanno un fratello ritardato, nato senza becco, un mostro idiota e sbavante e Paperino lo tiene segregato in cantina da tutta la vita e Walt Disney lo sapeva ma non l'ha mai detto perché si vergognava e se siete arrivati a leggere fino a qui mi dispiace, ora lo sapete anche voi. Mi raccomando non ditelo ai bambini. Questo è l'altro su Radio Catrame 19.